Buongiorno alle signore che a casa saranno ancora, a chi è cominciare la mattina a essere una regina. Ogni giorno è un'occasione nuova, una speranza che si scelta, zi e ma una signora. Femmene che ogni giorno aspettano che la vita ci darà la ruota a favore loro. Signore quarant'anni, sessanta e nuvant'anni, si addormono e si scelta, ma sembra la stessa vita. Tanta gente osserva che arriva a casa e si fatica, ma si parla tutti i giorni, non si mette scuola. E vota quelli muri su carcere e cimiteri, perché stanno inchiusi in casa per una vita intera. E allora, con onore, felicità e piacere, concludo e dico ancora, Buongiorno alle signore che a casa danno cuore. Buongiorno alle signore che a casa danno cuore.